Si chiama Eurocultura Abruzzo, il progetto dedicato al finanziamento europeo in ambito culturale. Uno stanziamento che per ora si attesta a poco al di sopra dei 400 mila euro ed è dedicato a progetti promossi dal territorio. Tutta una serie di possibilità che noi possiamo rivolgere e a noi stessi, agli enti ma anche alle tante associazioni che rincorrono questi finanziamenti, qui c'è anche una difficoltà. Ma non solo per i finanziamenti, noi abbiamo necessità anche all'interno della macro regione di Adigo Ioni che adentrano in un percorso culturale importante. Ci affacciamo con il rapporto internazionale, quindi a maggior ragione queste regioni possono avere un aiuto e possono darci un aiuto se fatte insieme. Parliamo di 400 mila euro circa, adesso stiamo destinando una prima somma di 100 mila euro per il cinema. Tra qualche settimana partirà un bando che premeremo tre giovani registri per il corti metraggi e perché erano molti anni che la legge del 98 non aveva più sfogo. Ecco, quindi anche su questo. Però le risorse sono minime e quindi abbiamo il dovere e l'obbligo di andare in giro a cercare risorse ulteriori per la nostra regione Abruzzo. Fondi sempre insufficienti rispetto alle richieste e alle necessità di rendere la cultura meno statica ma più in continua evoluzione. Nel programma transfrontaliero i padriati che i progetti dedicati alla cultura rappresentano solo il 5% del totale. In primis l'output che noi intendiamo formulare e proporre all'interno della regione Abruzzo afferisce essenzialmente alla politica di coesione europea, quindi individuazione di bandi sulla cultura, individuazione sullo sviluppo socio-economico, individuazione soprattutto di quegli obiettivi che sono strettamente correlati anche al territorio regionale. Far sì che le associazioni e le istituzioni culturali del territorio abruzzese possano accedere ai fondi europei attraverso ovviamente un percorso amministrativo di ricerca che il programma di Padriati che può principalmente svolgere sia in questa fase ma anche nella futura fase di programmazione ed anche nel post-2020. Nel programma di cooperazione che ha finanziato 101 progetti con 751 beneficiari, i progetti sulla cultura hanno avuto solamente un numero massimo che non supera il 5 progetti infraculturali di cui abbiamo essenzialmente delle ottime prestazioni in merito allo spettacolo dal vivo e quindi all'utilizzo del patrimonio culturale per lo svolgimento di attività dello spettacolo dal vivo.